Un supporto nei confronti di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori nella lotta all'usura. Siglata questa mattina la convenzione tra l'organismo di composizione della crisi dell'ordine dei commercialisti di Salerno ed Emergenza Legalità Onlus da anni in prima linea nel combattere il racket. Questa è un'occasione per dimostrare che le istituzioni come l'ordine dei commercialisti e esperti contabili sono a fianco assolutamente ai cittadini e naturalmente noi ci impegniamo in quello che potrebbe essere un'usura di Stato, quindi Equitalia, a maggior ragione tutte le associazioni che vogliono salvaguardare i cittadini che sono particolarmente indebitati, ovviamente noi saremo sempre al loro fianco. Permetteremo l'accesso all'OCC che sarebbe questo organismo di composizione della crisi in maniera agevolata quindi con dei costi bassi e coloro che sono iscritti all'OCC e ovviamente all'ordine dei dottori commercialisti e gli esperti contabili si metteranno a disposizione anche con tariffe più basse del Consueto proprio per liberare questi cittadini dal problema del racket e dell'usura. Riflettori puntati soprattutto sulle categorie più a rischio, quelle colpite da situazioni debitorie gravi. Il sovraindebitamento in effetti è il passaggio successivo all'usura perché è una persona che purtroppo è sovraindebitamente, non ha finanziamento, non può ottenere finanziamento né dalle banche né dagli studi finanziari. Questo ci dà la possibilità a queste persone che vengono presso la nostra associazione o anche presso l'ordine dei commercialisti di svolgere un'attività di prevenzione.